La domanda è, secondo te, a che cosa serve vivere? Cristo muori in croce per me, Pietro brucia in croce per te, santa è la bellezza, tanta è la paura, fai come faceva Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire. Pasolini è morto per te, morto a bastonate per te, nello stesso istante in qualche altra spiaggia si è fatto l'amore uniti contro il mondo. Necessario crepere, nei sogno scrivere. Baudelaire 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 Caravaggio è morto per te, Luigi Tenco è morto per te, vivere per sempre ci vuole coraggio, datti al giardinaggio dei fiori del male. Baudelaire 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 Grazie a tutti